Vieni, prendi questi. Grazie, ora mi sento di nuovo a me stessa. L'hai visto pure tu? Sì, perché il tuo numero è diventato 10? Forse il trucco è quello di essere se stessi. Come fa quella ad avere 10? Già, è una cosa impossibile, ma hai hackerato il sistema. Come hai fatto ad arrivare a 10? Sei bruttissima. Non ho hackerato niente, sono soltanto diventata me stessa. Cosa che dovresti fare pure tu? Magari riusciresti ad arrivare a 10. Come osi parlarmi in questo modo? Allora, mi devi aiutare ad arrivare a 10. E se non lo farai, la tua vita diventerà un inferno. Che cosa voleva Jenny? Volevo che io le dicessi come ho aumentato la mia valutazione. E allora gliel'hai detto? No. Iva, a che gioco stai giocando? Vedrai. Non dovevi farle indossare quel vestito da scimmia. Ma perché? Se lo merita. Mi pulizzo dalla terza elementare. Beh, sei un genio.